Assessore Franco Cammino, ci troviamo al Lago d'Averno per la pulizia del canale che collega il mare con il lago. Sono fermi i lavori, dovevano essere già ultimati. Ma a dire la verità, io stamattina sono venuto con proposito per capire un po' come stava la situazione. Noi abbiamo avuto una lettera dal presidente della provincia che il 2 marzo iniziavano i lavori, ci indicava la ditta. Siamo venuti qua sul posto, abbiamo detto tutti gli interventi che bisognava fare. In parte la ditta le ha fatti, praticamente ha tolto tonnellate di cannuccia, a dire la verità, che stavano su tutta questa zona, su tutta la fascia della foce, fino alla fine che sbocca il mare. Poi siamo rimasti che praticamente dovevano fare le analisi delle acque per vedere nel fondo che cosa c'era. Hanno fatto le analisi e tutto, è capitato un periodo di maltempo. Io più che sollecitarli continuamente mi è stato detto, Assessore avete ragione ma il tempo non ci consente. Dateci un po' la possibilità, nel momento in cui migliorerà il tempo continueremo tutti i lavori. Però adesso il tempo è migliorato ormai da diversi giorni. Il tempo è migliorato da diversi giorni. La settimana scorsa ho mandato una lettera di nuovo al presidente per sollecitare questi lavori, perché gli impegni erano di pulire la foce che non è stata pulita, di ripristinare una rete su tutta la zona dove avevano tolto l'erba e le cannucce per contenere la crescita ancora di queste canne e nello stesso tempo perché c'erano tutti questi dissuasori buttati a terra perché hanno fatto gli interventi e davano fastidio. Stamattina con il mio rammarico vedo che senza comunicarci niente sono venuti, hanno ripristinato tutti i dissuasori, ma come potete ben vedere la foce com'era, così è rimasta. Pur avendo fatto tutti gli analisi, rimane ancora da pulirla e rimane ancora da mettere tutta questa rete di trattenimento per evitare la crescita.